Ciao a tutti e ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con il New Super Mario Bros. Io di Lux, siamo ancora a Minieri di Caramella, questa volta l'ho fatta in tre parti perché beh, era piuttosto lungo come mondo Dunque, vediamo un po' Io devo andare a fare questo livello ora che è Grotta delle Piastre Meccaniche Ok Ci sarebbe ancora un altro livello da aprire ma penso che sia uno di quei livelli che hanno un'uscita segreta che porta lì Ah, ok Qui abbiamo gli Spine Non saranno Spine, questi hanno un altro nome perché hanno una Spina sola Comunque Scendiamo e vediamo un po' Quindi possono essere sconfitti solo da sotto perché l'abbiamo imparato nello scorso livello comunque che possono essere sconfitti i nemici solo saltandogli da sotto in questo caso Qua sto cercando di attirare i pipistrellacci perché sono molto pericolosi Allora, qua abbiamo il potere del fuoco che non mi fido a prendere quando c'è la pianta piragna Ok Possiamo andare Interessante comunque questo livello Niente male Ok, quello sconfitto Bene, bene Beh, sembra piuttosto Aiuto Sembra piuttosto lineare Non troppo difficile Ma comunque puoi ingannare se non proprio non ti fidi delle tue capacità quando salti Nel senso Non capacità di saltare perché basta che premi un tasto Nel senso dove puoi arrivare col salto E se ci credi veramente Se no potresti perdere malamente Allora Questa Penso di dover andare Non è che ho sbagliato strada, no? No Eccola Allora, era giusto come pensavo Ah, aiuto Ti facciamo attenzione Perché se no Ok E questo è anche andato Bene Allora, qui dentro potrebbe esserci un altro potenziamento Ma Boh Non so se lasciarli Poi se non prenderli questi Oddio, chi è là? Pianta piagna gigante Allora Ecco Qui iniziamo ad avere un po' di problemini Perché possiamo venire schiacciati Ok Metà livello Si può stare Si bisogna stare molto attenti Allora Questi vorrei veramente Farli fuori tutti Ma Ok Dai Vediamo un po' No Non è andato sopra Potevo fare filotto E prendere un one up Anche Che peccato Pensavo bastasse il salto Oh cielo Ah, andate via Bene No, 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 no Che dolore Pensavo bastasse Invece no Anche mi abbassavo Non era sufficiente Che pecca Che succede Pensavo se potesse andare tranquillamente Invece no Serve proprio il power up Serve Dai, dai Che Ma Ma dove arrivi? Boh Si era bloccato Non lo so Allora Stavolta ce la facciamo Ok E questo ci porta Chiaramente alla seconda montastella Non male Ah, qui si scende Mi stavo preoccupando Infatti dove si potesse cadere lì Ok Interessante questo Quindi bisogna saltare Praticamente quando si avvicina Ok Tempismo Abbastanza Oh Lì potrà rimanere schiacciato Altro che offeso Guarda Qui proprio me la vado veloce Veloce Ok Ok Qui è pericoloso No, 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 no Ok Ok No, che fortuna Lì Allora Quella Non so come prenderla Senza morirci male Ah, probabilmente con Con la tuta Da Da scogliattolo Probabilmente Eh, vabbè, sì Qua ci vuole proprio tutto da scogliattolo Perché almeno ti aggrappi Al Al pilastro lì E poi Riuscire a prendere la moneta E qui Puoi fare Il salto in alto E prendere anche La punta della bandiera Ma va bene Allora Qui si può uscire Vediamo un po' Bene Bene, quello mi apre la casetta di Toad E possiamo andare lì A prendere Qualche power up Sempre che io non prenda Bowser Certo Oddio Stavo per coprire quello sbagliato Questo? Boh Top Ok Dunque Quel livello lì Non so come aprirlo Andiamo quindi a fare Castello Trasportatore Di Roy Di Roy Bello Ok Andiamo un po' Aha Casca E non va a finire Nella lava Ok Ah Questo Mi sa che mi bloccava Si bloccava Ok Va bene Interessante Non arriva nient'altro Ok ho capito Carino Non so se devo andare Piuttosto veloce No Non devo andare veloce Devo sempre stare con la calma Ari eccoci qua Dunque Stavolta Dovrei cercare di non creparci Ok Ok Stavolta va benissimo Ok Lì in alto Non c'era Non c'è niente Mi sa Mi sa che Al terzo C'è qualcosa Perché Perché Sennò Perché mettercelo Ah ok Oh Preso Wow Pensavo di non farcela Ah Ok 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 Quello casca Veloce Veloce Bene Beh Farsi schiacciare Da uno di questi Cosi Equivarrebbe a morte Certa Quindi Ah Te ne danno due Quindi piattaforme Bene Meno male Possiamo andare Le monete rosse Ma Perché non provarci Dai Tempismo ci sta Dai 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 Veloce 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 Ok Oh Il fior di ghiaccio Bene Che già so Che non conserverò Fino alla fine Perché Fa solo una schiappa Quello lo lascio lì Per ogni Evenienza Ok Qui che succede Cercherò di congelare Il cupa Perfetto Aiuto E dai Ok Qua devo essere Veloce Ma Ma dai Ma dai Ma dovevo essere Vai riproviamoci Allora Questo Vada come vada Ok Rimangono fermi Ah Eh Vallo un po' Sapere Vedo quello che sprofonda Io mi impanico E vado subito A prendere Quello che Pensavo Che affondasse Allora Io con questi livelli Ho sempre avuto Sto problema Della terza moneta Di là A che serve andare di là Si arriva da qualche parte Non lo so Boh Andiamo ad affrontare Roiva Eh Ridi Ridi La mamma ha fatto i gnocchi A parte oggi è venerdì Quando starete vedendo il video Ma quando lo sto registrando È giovedì Quindi È corretto Ah Tu ci spara Eh Ok Ma lui fa solo questo Fino a che non lo colpisco Ah ok Quindi Salto in testa Come tutti gli altri Ovviamente Ah ma la piattaforma Si muove questa qui sotto Ah fa su e giù Ok È giusto Vabbè Sì vabbè Ma questo è facile Scusami Cioè Non è come Boom boom Che devi prendere Un attimino il tempismo Quando poi mette le ali Che ci mette più tempo A rialzarsi E invece no Questo qui proprio Tira tutto quanto il tempo Di rialzarsi Cioè Boh Questo era Forse Il più semplice Di tutti Una volta che scompaiono Le piattaforme È fatta Cioè Non so se dovessero Poi scomparire E non apparire più O dovevano riapparire Una volta che tu Gli salti in testa Boh Molto molto strano Facilissimo lui Forse è più facile Fino ad ora Oh Nel regno delle nuvole Ok Voglio dare una controllatina Perché mi intriga molto Voglio solo andare a vedere com'è Ah Nuvole di meringa C'è Kamek La casa dei Boo Comma mia Che strazio Il castello Con Ludwig Se non sbaglio E poi Bowser Chissà se Bowser Ha un regno a sé stante Questo è grosso Ad ogni modo amici Vi ringrazio Per aver seguito il video E ci vediamo Domani Con Pokémon Ciao Ciao Grazie a tutti